Signori, lo scopone scientifico. Dico la verità, non sono un amante di Alberto Sordi perché ci sono delle cose troppo troppo in dialetto. Non che sia brutto, ma a volte diventa pesante. In questo caso è, secondo me, un gran bel film. Anche se è del 72, voto 8,5. A parte il film è comunque interessante e scorrevole. Questo lo consiglio. Un saluto a tutti, iscrivetevi al canale, mettete mi piace. Ciao ciao!